ciao ragazzi oggi recensione veloce del victorinox hunter eccolo qua coltellino dalle dimensioni abbastanza generose racchiude un set di attrezzi utile soprattutto per chi fa campeggio oppure attività all'aria aperta eccolo qua dunque andiamo a vedere il set di attrezzi che lo compone abbiamo una lama grande molto grande ben affidata bene anche appuntita questo è un po spuntato perché l'ho preso in seconda mano ed era già un po rovinato comunque nuovo vi assicuro che abbastanza appuntito la lama viene bloccata da questo tasto quindi per sbloccarla basta tirare indietro e si può chiudere questo la rende molto sicura soprattutto per quando la si utilizza per di punta in modo che non si chiude sulle mani e non faccia danno alle dita ok poi abbiamo semplicemente una sega qualità victorinox non mi dilungo sul sulle doti che la rendono veramente uno degli attrezzi migliori della victorinox è molto buona poi abbiamo una lama curva dentata ecco questa vi assicuro che è molto molto affidata e non so per quali usi possa essere adeguata però insomma è buona averla bene averla penso per tagliare qualche ramo al busto oppure qualcosa di molto resistente è veramente affidata poi qui abbiamo un attrezzo multifunzione infatti è un cacciavite a testa piatta un apri scatole un apri bottiglie e uno spela fili e in più può essere utilizzato anche come cacciavite philips per alcuni tipi di vite utilizzando questa punta da inserire nella testa della vite andiamo a vedere ecco qua questo è l'utilizzo classico quindi come cacciavite testa piatta funziona egregiamente se no si inserisce in questo modo di punta e si usa in questo modo non tutti i tipi di vite sono supportati diciamo in quanto la forma non è proprio l'ideale questo questo ad esempio scatta molto esce molto dalla sede magari con un'altra forma più definita tipo questa la cacciavite funziona meglio comunque c'è dietro abbiamo il classico apri bottiglie senza cacciavitino piccolo senza foro per lo spillo e per finire abbiamo il punteruolo molto utile ben affilato anche questo che serve anche per come ago di emergenza per delle cuciture diciamo grossolare per finire abbiamo a parte l'anellino portachiavi una pinzetta la classica pinzetta victor inox molto buona funziona molto bene e lo stuzzicadenti eccolo qua nel complesso è un buon coltello soprattutto per la lama grossa bloccabile è un buon compagno d'avventura direi promosso molto bene questo non ricordo il prezzo di questo coltello da nuovo mi sembra intorno ai 35 euro li vale tutti non è tutti niente ricordatevi che in italia è illegale girare con questo in tasca però se usato per campeggio si può portare arrivederci alla prossima ciao